E' stato un incontro online, anche quello si fa online ormai. Sono oggi a Palermo perché ho partecipato a un incontro con alcuni proprietari di Cani nell'ambito di una mostra canina molto ben organizzata, molto interessante e dove ho avuto la possibilità di parlare a Noirbac di quelle che sono le novità che riguardano la prevenzione della leismaniosi. Essendo in Sicilia una zona altamente endemica e pericolosa per questa malattia, Virbac ha la possibilità di proporre un nuovo vaccino. Quindi il mio consiglio che combatte la leismaniosi è quello di andare dai veterinari, dai vostri medici curanti che hanno in cura i vostri cani e farsi consigliare da loro qual è il modo migliore per prevenire questa malattia. Noi come azienda diamo come strumento ai veterinari la possibilità di vaccinare, ma non solo, ma anche di prevenire con l'uso di repellenti. Abbiamo anche dei repellenti per evitare che gli insetti, i vettori di questa malattia trasmettano la malattia ai nostri cani.